Davide, punto fermo della difesa, sei inamovibile, insostituibile, non te l'aspettavi neanche tu forse? No, non me l'aspettavo neanche io, sto cercando di fare il massimo, di dare il massimo veramente, quindi sono molto contento per le prestazioni personali e per le vittorie, per i risultati che stanno venendo. Ma purtroppo adesso arriva il più difficile e quindi non bisogna mollare assolutamente e continuare su questa strada, sapendo che già da domenica affrontiamo il Lanciano, che è una partita molto insidiosa, perché è un derby, loro ci tengono molto, e può essere l'ultima spiaggia per loro, perché possono salvarsi attraverso questi tre punti, possono arrivare a play out. Quindi lo stesso vale per noi, perché la partita è fondamentale anche per noi. Perché questi tre punti ci consentono di, intanto, assicurarci il quarto posto e di vedere lo scontro tra le altre. Tante buone prestazioni, come diceva anche il collega, oramai punto fermo della difesa, e settimana scorsa è arrivato anche il rinnovo contrattuale, un premio ad un periodo senz'altro bello per te. Sì, sì, un bellissimo riconoscimento, sono molto contento per la fiducia della società e cercherò di ripagarla come sto cercando di fare in questo periodo. Scadenza 2035-2036? Ah ecco, 2021, insomma sono tanti. Sono tanti, sono sereno. Sono il giusto premio, come diceva. Ero in scadenza, quindi si doveva fare, e sono molto contento perché è avvenuto in questo periodo, che è anche molto bello per me. Il presidente sente il profumo dei soldi, in caso di cessione. Già lo senti, lo annusa. Sono cose che vedono loro, io non lo so. Senti, ti stiamo vedendo giocare da terzino, anche se lo stesso Oddo nei giorni scorsi ha detto all'occorrenza potrei anche schierarlo da centrale. Tu dove ti trovi meglio, in questa posizione, in quella attuale? Sì, sinceramente mi trovo meglio da terzino perché lo sto facendo con continuità, sto riuscendo secondo me bene, anche se devo migliorare molto in alcune cose. Potrei fare il centrale perché l'ho sempre fatto nelle giovanili, l'ho sempre fatto anche abbastanza bene, quindi dovrò solo riabituarmi e riprendere un po' confidenza col ruolo. Mi hanno sempre detto fisicamente, magari in prospettiva non ero pronto per fare questo ruolo, però io mi metterò alla prova in gioco per farlo, comunque cercare di farlo bene. La curiosità, nasci terzino o centrale? No, io nasco centrale, parlando di difensori perché prima facevo addirittura l'esterno alto di destra, quindi nei giovanili da piccolo, però da difensore nasco da centrale, poi spostato a destra perché mi ritenevano in prospettiva meglio da terzino. Senti, proiettiamoci alla sfida con il Lanciano, tre giornate alla fine del campionato, una partita chiave per entrambe le formazioni che però il Pescara deve vincere per cercare di arrivare il più in alto possibile. Ti chiedo, chi è secondo te l'avversario da evitare in chiave playoff? È il Bari? Può essere il Bari per il pubblico, noi però chiunque capiti dobbiamo affrontarlo allo stesso modo, noi dobbiamo affrontarla per vincere la partita, partendo da queste tre che possono consentirci di arrivare quarti se non terzi, quindi dobbiamo cercare di sfruttare queste tre partite per la classifica e quindi arrivare terzi può essere un gran vantaggio. Senti, potresti incrociare Di Francesco che già conosce? Sì, è un giocatore che ha dimostrato di essere molto valido, molto forte, potrei incrociarlo e spero di bloccarlo e limitarlo. Come è già successo ai vari Catellani, Ragusa e compagnia cantante? Sì, ma non ci possiamo accontentare. Senti, per caso hai sentito Mandragora che purtroppo dopo l'infortunio ha chiuso la stagione? Sì, l'ho sentito, prima dell'operazione adesso non l'ho sentito, però visto che sei operato quindi è già in via di recupero. L'ultima per quanto mi riguarda, come fai a conciliare gli innumerevoli impegni? Anche perché tra l'altro stai studiando anche con ottimi risultati, ci sarà l'esame di Stato, liceo classico, insomma studi impegnativi, naturalmente fai il calciatore a ottimi livelli, ti alleni tutti i giorni e poi anche magari l'amore, no? C'è sempre il comune. C'è anche quello, quindi cerco di fare il massimo in tutti i campi. No, in tutti i campi, quando sono a scuola cerco di dare il massimo, quando vengo qui mi alleno e sono concentrato al 100% per fare il massimo sul campo e poi quando torno a casa di recuperare quello che perdo a scuola. E quindi 5 minuti per la ragazza al giorno? Vabbè, poi studio con lei magari così consiglio le due cose. Grazie a tutti.